Buona domenica a tutti, oggi 3 ottobre facciamo tanti auguri al grande Zlatan Ibrahimovic, oggi compie 40 anni, il bomber svedese che tutti adoriamo, tutti amiamo, anche perché da quando è tornato Ibra al Milan, questo Milan ha cambiato marcia, ha alzato il livello, ha alzato l'asticella e anche se lui manca, anche se il giocatore ultimamente sta avendo diversi problemi fisici, diversi infortuni, comunque è importante averlo in rosa perché ha portato mentalità, perché ha aiutato tanti giocatori a sbloccarsi, avere più responsabilità e questo per un allenatore è fondamentale, non ci dimentichiamo che un paio di anni fa, forse anche meno, il Milan navigava tra il settimo, il sesto posto, da quando è arrivato Ibra nel gennaio del 2020 le cose sono cambiate, sono cambiate soprattutto dopo quel 5-0 contro l'Atalanta e questa sera il Milan giocherà proprio contro l'Atalanta a Bergamo, un campo che ricorda delle bruttissime esperienze come quella figuraccia, quella macchia storica del 5-0, ma anche come il 2-0 contro la squadra di Gasperini proprio a maggio che ha regalato al Milan finalmente il ritorno in Champions League, quindi tantissimi auguri a Zlatan Ibrahimovic per i suoi 40 anni, ma questa sera i rossoneri affronteranno un match molto delicato, molto importante. E già dai convocati di questa mattina possiamo ottenere ben tre indicazioni, tre notizie fondamentali per il match di questa sera, ricordiamo che il gruppo rossonero è partito questa mattina in pullman per Bergamo, la partita sarà in serata, però è ovvio che dopo i risultati della Juve e dell'Inter, soprattutto le inseguitrici in classifica, è fondamentale per il Milan fare risultato questa sera contro l'Atalanta. Ma come dicevo, dalle convocazioni di Stefano Pioli possiamo ottenere già delle importantissime notizie. La prima notizia, e mi dispiace davvero tanto, è l'esclusione di Olivier Giroud. Il giocatore non sta bene, non sta ancora bene, purtroppo si è riacutizzato questo fastidio alla schiena, sia ieri che stamattina hanno provato lo staff medico a rimetterlo in piedi anche con antinfiammatori, però alla fine non hanno voluto rischiare, non hanno voluto forzare la mano, anche perché probabilmente questo problema, se sta dando enormi fastidi a Giroud, vuol dire che è un problema anche abbastanza importante. Ricordiamo che Giroud ha giocato fino ad ora solamente tre partite con la maglia del Milan in campionato e sta diventando un po' un problema, perché il Milan si aspettava il pieno utilizzo di Giroud, che doveva essere il sostituto di Ibrahimovic quando Ibra mancava. Il problema è che stanno mancando entrambi, manca Ibra, sempre per questo problema al tendine d'Achille, che è un'infiammazione che non sta passando, oggi è il suo quarantesimo compleanno e lo festeggerà non in campo, però il Milan in estate aveva preso l'ex Chelsea proprio perché doveva essere il sostituto ideale dello svedese, di Zlatan, ma anche Giroud non sta bene, questo problema alla schiena lo sta attormentando, il Covid ha fatto il resto perché poi quando i giocatori escono dal Covid non escono benissimo e quindi lui su tutte le partite che il Milan ha giocato fino ad ora ne ha giocate solamente tre. Tra l'altro le prime due, ottimamente, le prime due gare d'esordio del campionato, segnando anche una doppietta contro il Cagliari, ve la ricordate quella a San Siro, poi ha fatto 45 minuti non benissimo contro lo Spezia. Il Milan e Pioli lo hanno utilizzato quella settimana anche contro l'Atletico Madrid, ma si vedeva che non era il vero Giroud, un giocatore abbastanza statico, non rincorreva palloni, non rincorreva gli avversari. Il Milan nel secondo tempo con Giroud ha fatto un'enorme fatica, quasi giocando in nove, perché era stato espulso anche Chessy, non ha dato un grande apporto Olivier Giroud. Olivier Giroud in questo momento non sta bene e il Milan ha preferito non rischiarlo. Il problema alla schiena si è ripresentato, allo staff medico vorrebbe concedergli questi 15 giorni di riposo della sosta per riaverlo al meglio dopo gli impegni della Nazionale. Purtroppo però il Milan questa sera contro l'Atalanta giocherà senza i due titolari, Ibrahimovic e Giroud. Questo è un dato di fatto oggettivo, uno spunto di riflessione per i nostri commenti, per i vostri commenti, perché giustamente il Milan sta affrontando il campionato, questo inizio campionato senza gli attaccanti che erano stati presi a inizio stagione proprio per lottare per il vertice. Quindi un'altra grana, un altro problema da risolvere. Seconda notizia dei convocati di Stefano Pioli è la presenza di Messias. Prima convocazione per il brasiliano Junior Messias, per il trentenne che è stato preso dal Crotone in estate. Gli ultimi due allenamenti sono stati buoni, propositivi, giocatore di qualità. Ha anche ben impressionato a Milanello nella giornata di venerdì e di sabato. Venerdì addirittura è stato il primissimo allenamento con i compagni. E quindi vediamo se questa sera contro l'Atalanta ci sarà anche spazio per lui. Ce lo auguriamo perché, viste le assenze in attacco di Giroud, di Ibrahimovic, un Pellegri non proprio ancora al meglio, perché fino ad ora è stato utilizzato pochissimo, ci auguriamo che possa essere proprio la serata di Messias, chi lo sa, nel finale di gara. Una gara che si preannuncia comunque difficile e complicata perché l'Atalanta è un avversario tosto da affrontare, non solo per la classifica ma storicamente per la rivalità che c'è tra l'Atalanta e il Milan, per la rivalità cittadina. La terza notizia che ricaviamo comunque dai convocati e dalle indiscrezioni che provengono da Milanello è l'utilizzo di Fren Chessy. C'è ancora un dubbio. Il Milan, o meglio Stefano Pioli, vorrebbe mettere in campo la coppia migliore a centrocampo. In questo momento Tonali e Benasser danno maggiori garanzie rispetto a Chessy, ma non per il fatto che Chessy sia distratto dal contratto. Può essere anche questo il vero problema. Ma più che altro per una questione fisica e atletica, Benasser e Tonali stanno molto bene. Cioè è dura lasciare fuori giocatori del genere per far giocare che sì. Quindi è più questa credo la scelta di Stefano Pioli, piuttosto che un'esclusione punitiva o legata al contratto per il giocatore ivoriano. L'augurio quindi per il Milan e per lo staff medico è di recuperare quanto prima gli infortunati, perché anche oggi contro l'Atalanta sono tanti, sono davvero tanti. Ibrahimovic, Giroud, mettiamo anche Bakayoko, Krunic, Plizzari, insomma Florenzi, iniziano a diventare davvero troppi gli infortuni. Ogni partita il Milan deve affrontare l'avversario senza una lunga lista di giocatori. Quindi la sosta arriva proprio in soccorso del Milan. I rossoneri dopo la sosta dovrebbero praticamente recuperare tutti tranne Florenzi. ma questa sera c'è però un impegno delicatissimo da concretizzare al meglio, perché i tre punti dovrebbero essere, saranno in un certo qual modo fondamentali per chiudere nel migliore dei modi questa prima frazione di campionato prima della sosta. Ci auguriamo che possa essere ancora una volta la gara di Leao Erebic, di Brian Diaz, perché sono loro in attacco che possono dare una scossa a questo Milan in attesa del pieno recupero dei titolari. È innegabile che a inizio stagione tutti pensavamo ad un Milan diverso, con Ibra e Giroud lì in attacco, invece proprio loro due stanno mancando per problemi fisici, purtroppo. Ma questa sera l'impegno è importante, massima concentrazione a Milanello, è partita la spedizione per Bergamo questa sera, tutti concentrati su Atalanta-Milan.